32 interi bancali, 18 kg di cibo per cani e per gatti. Pabba Natale è così arrivato anche al canile comunale di Arezzo, gestito da Empa, con una donazione dell'azienda Landini Giuntini. Questa donazione fa parte di una nostra specifica strategia, è una strategia di tutto il gruppo PPF, di cui Landini Giuntini fa parte. Una delle nostre prerogative è quella di dare sostegno alle comunità locali. Quindi fa parte della nostra, come dicevo, strategia di sostenibilità. Abbiamo scelto Empa perché abbiamo riscontrato una missione, un'attenzione al tema che si sposava perfettamente con i nostri valori aziendali. Quindi abbiamo riscontrato questa compatibilità. I due gruppi hanno infatti dedicato uno specifico ramo chiamato Pets alle attività sociali, lanciato nel 2023 che mira a sostenere rifugi per animali in tutta Europa. Come vedete il cibo è veramente tanto. Ci hanno fatto una donazione sia per cani che per gatti. Quindi abbiamo pensato che quella per i gatti è di unirla oggi al regalo di Natale che il Comune ha fatto alla città. Le gattare fanno un grandissimo lavoro. Sono tutte volontarie, come lo siamo noi, e hanno tanti problemi. Io questo lo comprendo che hanno spesso problemi di salute. Però ecco, lì non è sempre possibile arrivare. Diciamo che cerchiamo comunque noi di dare un sostegno e di non lasciarle sole. Però fanno veramente una grande opera, un grande volontariato.